Preghiera, silenzio, parole poche ma soprattutto niente armi. Questo l'auspicio e anche se vogliamo la soluzione proposta da Pax Christi dopo gli attacchi di Parigi. La commozione, il silenzio e la solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e a tutto il popolo francese sono la prima forte emozione che ci ha accomunato a tanti. Queste le parole che si leggono nel comunicato a firma di Pax Christi in merito agli ultimi attacchi che hanno sconvolto Parigi a dieci mesi dall'attentato a Charlie Hebdo. Più di 120 morti e moltissimi feriti di cui un centinaio, gravissimi. Ma oltre al dovere del silenzio, cos'altro c'è di fronte ad un dolore così grande? Si chiedono i rappresentanti di Pax Christi. Sentiamo dunque la necessità, scrivono in una nota i rappresentanti nazionali del movimento, di pronunciare alcune prime parole, partendo da quelle di Papa Francesco che ha affermato che nessuna religione, ma neppure altro che possa definirsi umano, può avere qualche attinenza con quanto successo a Parigi. Usare il nome di Dio per uccidere è una bestemmia, ha chiaramente detto il Santo Padre, parole che sono anche le nostre parole di sempre, quelle di un movimento, Pax Christi, che riconosce nell'essenza del messaggio evangelico liberazione e pace. Alla violenza occorre reagire in modo determinato e responsabile, senza alimentare ulteriori violenze, isolando gli aggressori. È indispensabile, come Pax Christi lo abbiamo ripetuto troppe volte, dicono, dire basta alla vendita di armi e non fare accordi economici con chi è direttamente coinvolto in questi progetti di morte. Recentemente, ricordano, abbiamo denunciato la vendita di armi italiane alla rabbia saudita, dunque basta con le armi, questo l'appello. Costruiamo invece una politica di pace con mezzi di pace, partendo dalla prevenzione delle nostre città e tra i nostri giovani, attraverso il dialogo tra le religioni e una civiltà del diritto. Non vogliamo rassegnarci a logiche di guerra, perché non dobbiamo disperare della pace se si costruisce la giustizia. La conclusione di Pax Christi.